Ecco la nuova maglieria magica per vestire la tua Barbie. Se ti piace lavorare a maglia, con maglieria magica ti sarà facilissimo e la tua Barbie per l'inverno che si affaccia avrà stupendi vestiti di lana. Con maglieria magica puoi fare inoltre cupazzi, berretti, cinture, borsette e tanti altri oggetti da regalare. È divertente come il più divertente dei giocattoli. La nuova maglieria magica per vestire la tua Barbie. Chocchi baby, chocchi na te.